Pio Montele Misericordia si è sempre rivolto all'arte contemporanea, non solo per abbellire, impreziosire i propri siti e i propri luoghi, ma proprio per trasmettere il proprio messaggio, per trasmettere la propria visione della realtà. È quello che ha fatto dall'epoca della commissione a Caravaggio e che ha continuato a fare storicamente e continua a fare oggi. Noi abbiamo un pubblico di visitatori molto attento, che ovviamente parte nella visita dal Caravaggio, ma che non disdegna affatto il resto del patrimonio storico-artistico dell'Istituto, frequenta la nostra galleria ed è molto apprezzata e frequentata anche la sezione dell'arte contemporanea, per cui ho motivo di sperare che queste opere incontrino il gusto e il successo presso i visitatori. Grazie a tutti!